Avevamo concluso il video precedente dicendo che Socrate, che aveva passato, attraversato indenne i regimi politici precedenti, rimanendo sempre ad Atene e non avendo mai accettato incarichi politici, viene accusato, messo sotto processo e infine condannato a morte. Possiamo procedere. Gli ideatori del piano di accusare e far processare Socrate sono due esponenti di rilievo del regime democratico, Anito e Licone, che tramite Meleto, un giovane ambizioso e fallito letterato che gli fa da prestanome, accusano Socrate di due cose. La prima, corrompere i giovani insegnando dottrine che propugnano il disordine sociale, e la seconda, di non credere negli dei della città e di tentare di introdurne di nuovi. La lettera d'accusa contro Socrate da parte di Meleto, secondo quanto leggiamo nell'opera dello storico greco antico Diogene Laerzio, intitolata Vita e dottrine dei filosofi, recita infatti Questo ha sottoscritto e giurato Meleto di Meleto, contro Socrate di Sofronisco. Socrate è colpevole di non riconoscere come dei quelli tradizionali della città, ma di introdurre divinità nuove, ed è anche colpevole di corrompere i giovani. Pena la morte. Fine della citazione. L'accusa di ateismo, che rientrava in quella di empietà, cioè comportamento che prescinde da ciò che è considerato sacro e morale, è chiaramente un pretesto giuridico per un processo politico, in quanto l'ateismo era sì ufficialmente condannato, ma nei fatti tollerato e ignorato se affermato privatamente. Ma poiché la religione e la cittadinanza erano ritenute un tutt'uno, accusando Socrate di ateismo lo si incolpava anche di aver cospirato contro le istituzioni e l'ordine pubblico. In ogni caso, Socrate non aveva mai negato l'esistenza degli dèi della città e riesce a difendersi facilmente dall'accusa, sostenendo di credere in un daimon, creatura minore, figlia delle divinità tradizionali, a metà strada tra gli esseri umani e gli dèi. Uno dei maggiori oratori greci dell'antichità, di nome Lisia, si offre di difendere Socrate, che però rifiuta probabilmente perché non vuole confondersi con i sofisti e preferisce quindi difendersi da solo. Il processo, descritto da Platone nella celebre opera Apologia di Socrate, mette in evidenza due elementi fondamentali. Il primo, Socrate è stato confuso da chi non lo conosce, con i sofisti considerati corruttori morali dei giovani, e il secondo, Socrate è odiato dai politici ateniesi. Riguardo all'accusa di corrompere i giovani, essa si spiega col fatto che Socrate era stato maestro di Crizia e di Alcibiade, due personaggi che nell'Atene della restaurazione democratica godevano di pessima fama. Crizia era stato infatti il capo del regime oligarchico instaurato ad Atene nel 404 a.C., passato alla storia come regime dei 30 tiranni, mentre Alcibiade, per sfuggire al processo che gli era stato intentato, aveva tradito Atene ed era passato a Sparta, combattendo contro la propria patria. Sono stati proprio i rapporti di educatore che Socrate aveva avuto con questi due personaggi a porre le basi per l'accusa di corruzione verso i giovani, e sebbene Alcibiade e Crizia fossero morti entrambi, i democratici non si sentivano al sicuro finché l'uomo che essi immaginavano avesse ispirato i loro tradimenti aveva ancora influenza sulla vita pubblica. Proprio per queste ragioni, oggi la maggior parte degli studiosi rifiuta la tesi molto diffusa fino a qualche tempo fa, secondo cui il processo e la morte di Socrate siano stati un avvenimento incomprensibile ai danni di un uomo apparentemente trascurabile e per niente pericoloso per il regime democratico, che voleva semplicemente ricostruire un'unità politica e spirituale all'interno della città. Il processo Il processo si tiene nel 399 a.C. davanti a una giuria di 501 cittadini di Atene. Anziché pronunciare un lungo e raffinato discorso in sua difesa o portando in tribunale la sua famiglia per impietosire i giudici come si era soliti fare, Socrate si difende contestando le basi stesse del processo, ma la sua strategia non funziona. Egli viene infatti riconosciuto colpevole per appena 30 voti di margine. Dopo la sentenza, come previsto dalle leggi della città, sia Socrate sia il suo accusatore Mileto devono proporre una pena per i reati di cui l'imputato era stato accusato. Socrate dapprima sfida i giudici, proponendo loro di essere mantenuto a spese della collettività, poiché ritiene che gli debba essere riconosciuto l'onore dei benefattori della città, avendo insegnato ai giovani come distinguere il bene dal male. Successivamente consente a farsi multare, seppur di una somma ridicola, una mina d'argento, cioè tutto quello che egli possedeva, successivamente aumentata a 30 mine sotto pressione dei suoi seguaci, che si fanno garanti per lui. Mileto chiede invece la morte. Le due proposte vengono messe ai voti e con ampia maggioranza, 360 voti a favore contro 140 contrari, viene scelta la condanna a morte tramite l'assunzione di Cicuta. Scelta, questo tipo di condanna a morte, che fu compiuta più per l'impossibilità di punire Socrate con una multa così ridicola che per l'effettiva volontà di condannarlo appunto alla pena capitale. E' bene osservare come fosse una pratica diffusa da parte del condannato quella di proporre come pena per se stesso l'esilio volontario dalla città al fine di evidenziare, di evitare la sentenza di morte. Ed è probabilmente su questo che contavano gli stessi accusatori di Socrate. Egli invece decide di irritare i giudici con le sue ridicole proposte perché non ha nessuna intenzione di andare in esilio, in quanto sa che anche fuori da Atene avrebbe continuato nella sua attività di dialogo con i giovani e di messa in discussione di tutto ciò che si voleva far passare come verità certa. Citiamo lo stesso Socrate, perciò mi ritroverò a rivivere la stessa situazione che mi ha portato alla condanna. Qualcuno dei parenti dei miei giovani discepoli si irriterà alla mia ricerca della verità e mi accuserà. Fine della citazione. Accettazione della condanna Come racconta Platone nel suo dialogo giovanile intitolato Critone, Pur sapendo di essere stato condannato ingiustamente, Socrate rifiuta le proposte di fuga dal carcere da parte dei suoi discepoli che avevano organizzato la sua evasione corrompendo i carcerieri. Secondo lui infatti è meglio subire ingiustizia piuttosto che commetterla. Citiamo dall'opera di Platone, sempre Apologia di Socrate, è giunto ormai il tempo di andare, o giudici, io per morire, voi per continuare a vivere. Chi di noi vada verso una sorte migliore è oscuro a tutti noi, tranne che al Dio. Fine della citazione. Socrate accetta quindi di buon grado la sua sorte perché secondo lui la morte o è un sonno senza sogni oppure gli darà la possibilità di visitare un mondo migliore dove potrà incontrare molti interessanti interlocutori con cui dialogare. Persino nell'aldilà quindi Socrate intende professare il fondamentale principio a cui si è attenuto in tutta la sua vita. Il dialogo. Molto bene, questo è tutto. Questo video termina qui. Come sempre vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione. Vi faccio un grande in bocca al lupo per i vostri esami. Spero che questo video vi sia utile. Grazie ancora. Alla prossima. Alla prossima.